grazie grazie a tutti voi grazie ancora l'amministrazione comunale grazie ai nostri ospiti donata luani grazie michele sgarbi che intravedo ma non sale grazie donata grazie alla corale complimenti davvero grazie a tutti voi e grazie al maestro alessertoni io credo che stia facendo un lavoro titanico perché mettere assieme tutti questi talenti queste menti queste personalità credo che sia una cosa incredibile e compone arrangia studia dormi anche sì qualche poco poco dormi poco cucini non lo so comunque veramente straordinario siete stati meravigliosi credo che non vi dispiacciono due bis no ok in perfetto tema natalizio e quindi li presento tutti e due insieme ad este fidele e poi seguirà donata luani con ho happy day grazie ancora grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.